Elio Donno del Corriere dello Sport Alessandro bentornato non nelle camere ma anche bentornato tra di noi perché tutte le domande sono due la prima tu sei stato tre mesi assente, Perugia, infortunio poi sei tornato a Benevento, ottobre, gennaio prima domanda ti era mai successo in carriera una vicenda del genere? seconda domanda con quale spirito ti prepari ad affrontare questo rush finale? terza domanda tu sei un esperto della Serie B e dei vittori, hai vinto due campionati con la Sala Litana dalla C a là e uno con Benevento ecco quindi diciamo la tua esperienza, puoi spaziare come vuoi in queste domande che ti ho fatto, grazie ti rispondo alla prima e purtroppo devo dire che di momenti infortunato ne ho avuti abbastanza quindi purtroppo ti devo anche dire che sono, so come vivere questi momenti, sai un calciatore si aspetta sempre di star bene però purtroppo quando ci sono questi momenti negativi bisogna viverli bene e pensare solo a ritornare in campo nel miglior modo possibile per il resto ci prepariamo a queste ultime partite dobbiamo ritrovare un po' di brillantezza, un po' di quello che era stata la nostra impronta prima delle ultime partite che probabilmente con tutti gli infrasetti manali ci hanno visto un po' meno brillanti come ho già detto e questa sosta credo che capiti proprio nel momento giusto per ricaricare le batterie e fare un po' di chiarezza insomma tra di noi del resto ho vinto dei campionati però non ho mai visto un campionato come questo quindi c'è grandissimo equilibrio in alto e adesso quando la posta in palio è altissima anche perché si gioca qualcosa nelle ultime posizioni ogni partita è veramente dura quindi non importa chi affronti ma va affrontata tutta come tutte le partite vanno affrontate con massimo rispetto dell'avversario Faccio un po' su scriptum qual è il segreto per ogni giocatore in fasi così convulsa come questa? Credo che più di parlare del giocatore bisogna parlare dell'unione tra i giocatori che quando si è vicino ad un obiettivo non bisogna farselo scappare io a inizio anno proprio qui avevo detto che potevamo essere la sorpresa di questo campionato perché c'erano sicuramente squadre più attrezzate di noi però adesso a sette giornate dalla fine non ci possiamo nascondere siamo lì e dobbiamo affrontare queste ultime gare con grandissima umiltà Pasquale Marzotto della Gazzetta dello Sport e Mondo Radio Buongiorno Si è rientrato già a Parma e ora hanno recuperato Dermagu e Simic Ritornano le torri sia per la difesa che per l'attacco e tu ad inizio stagione prima a Ferragosto e poi con l'Alessandria ci hai messo lo zampino di testa Dermagu a Brescia ma ora inizia a esserci anche una sfida per i due posti? Io credo che sempre ci debba essere una sfida perché quando il mister ha tanta scelta credo che si possa ritrovare nelle migliori condizioni di fare la miglior formazione quindi la competizione che c'è tra le coppie di ogni reparto è solo un bene in una squadra sana come la nostra quindi in questo momento non è il momento di fare egoismi Chi gioca gioca, se gioca uno a posto dell'altro è perché il mister ritiene che possa dare qualcosa in più rispetto a chi in quel momento magari è lì ad aspettare a soffrire in panchina Visto quanto è successo a Brescia e viste le parole di Inzaghi quando è venuto nell'ultima partita del Vio del Mare spendendo parole di elogio verso Alessandro Tuglia, Coda e anche Calabresi la sorpresa a quello che è successo a Brescia e poi Inzaghi come è tratta con il gruppo? Può succedere qualcosa di diverso in casa a Brescia in questo momento? Proprio ieri ho scritto al mister ho scritto che sono molto dispiaciuto per l'accaduto ovviamente poi non sono andato a chiedergli i dettagli perché sono cose comunque personali credo che sia abbastanza folle quello che sia successo a Brescia una squadra a quattro punti dal primo posto in classifica ti parlo personalmente non credo che possa esonerare un allenatore insomma a sette partite dalla fine ha un grande rapporto con il mister abbiamo vissuto dei momenti eccezionali e anche una retrocessione purtroppo però ecco è un allenatore che ha giocato a calcio ai livelli mondiali quindi il rapporto che riesce a creare con ognuno dei propri calciatori è ottimale direi Carmento Masi di Telerama Salve, io volevo sapere secondo lei qual è la quota promozione per andare in Serie A qual è la squadra più attrezzata della Serie B e poi hai parlato di poca brillantezza nelle ultime partite secondo lei in cosa oltre a questo il Lecce può migliorare? credo che serviranno almeno 15-17 punti forse 70-72 credo che la quota promozione possa essere quella per il resto credo si sia vista la squadra ci ha sempre messo il cuore in ogni partita anche quando probabilmente non eravamo brillanti dal punto di vista fisico sinceramente qualcos'altro che ci manca è ritrovarci secondo me se ci ritroviamo riusciamo ad affrontare queste ultime sette partite alla grande e se riusciamo ad essere noi stessi a fare le prestazioni che noi vogliamo poi diventa più facile riuscire a vincere ogni singola partita la squadra più attrezzata? secondo me la Cremonese io ho avuto subito purtroppo un impatto con la prima partita che abbiamo perso malamente a Cremona ma poi hanno mantenuto alto insomma quel tipo di atteggiamento e la Cremonese secondo me è una squadra che arriverà fino in fondo Elio Donno Alessandro Chiapri chiuda mancano otto giorni ancora nove per la gara con il Frosinone quindi si riparte subito con una squadra che ha battuto il Benevento e che lotta per piazzarsi bene nella ghiglia dei playoff che partita prevedi? che avversario prevedi? è una partita difficile il Frosinone è una delle squadre che sa quello che fa in campo ci sono degli ottimi giocatori anche giovani dietro hanno un grande giocatore che è stato appena acquistato dalla Juve quindi ho seguito anche molte delle sue partite è stato veramente sorprendente davanti a gente veloce quindi è una squadra da attenzionare nel migliore dei modi e noi abbiamo, ripeto, questa sosta credo che posso solo farci il bene per preparare insomma questa partita fondamentale contro il Frosinone Carmen Tommasi anche in Lecce in Rosa ha tanti giovani chi con la tua esperienza ti ha stupito di più? chi in queste ultime gare secondo te può crescere e fare la differenza? credo che Morten in questa stagione sia stato fondamentale anche credo per il suo percorso di crescita, la sua continuità è un giocatore che mi ha sorpreso soprattutto per l'età che ha la sua personalità, ripeto io credo che tutti i giovani che ho trovato qui a Lecce siano sorprendenti perché non ho mai trovato dei ragazzi così lavoratori se posso definirli che non si lamentano mai e che cercano di dare di tutto per la squadra pur magari non giocando con continuità quindi cito John Bjorkengren perché credo che sia uno di quelli che ha giocato forse meno tra i giovani ma che merita tutto il rispetto di noi di tutti i suoi compagni Pasquale Marzotta sì, quando ha firmato a Lecce si trovava in vacanza a giugno nel Salento ci torno per il futuro visto che c'è comunque il contratto ma pensa anche di comprare casa oppure basta così? l'idea c'è stata francamente però adesso ho altri progetti sto costruendo casa nel mio paese non è il momento però ho visto che questa è un'idea che è venuta a tanti giocatori che sono passati da qua quindi mi sono informato sicuramente è una bella piazza, è una bella città quindi sarebbe bello in futuro magari poterlo fare essere in vacanza e firmare in contatto non lo rende a tutti no esatto, infatti è stato sorprendente direi molto bello sembrava proprio una coincidenza bellissima prima di Leonardo esatto era già prima di qua Leonardo? Lorenzo? o Leonardo? il secondo? no 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 è arrivato in Puglia sì grazie a tutti